aiuto in carriera si viaggia è immediata e poi resta corta misteria resta corta non hai niente che ti stinge imparare no o no Grazie a tutti. Sì, perché sennò resti corto. Vedi? Ti porta via. Figaro. E se resti attaccato al gas va. Fizza, non si ferma. Troppo. Troppo. E non è facile. La difesa della lente è che con Montesa ti seconda, tu accendi l'erito, fa un tot. Esatto. Questa accende l'erito. Cioè se anticipi l'alzo riesci. Non ci parla un casino. Figaro è pericolosa. Figaro comunque è pericolosa e se non stai allerta cazzo ti ribalta. è pericolosa. Basta. Basta. Fino a che mai. È un missile, cazzo. sai che io come telaio mi piace più Belmontesa? Devo anticiparla tanto